comincerò chiarendo a chi si rivolge innanzitutto questo video senza escludere altri si rivolge innanzitutto agli studenti del mio corso di filosofia morale a dell'università di bergamo ora per questo corso la parte generale prevede lo studio di un manuale ho deciso di strutturarlo in questo modo e di scegliere come manuale il libro le parole dell'etica di antonio dare pubblicato da bruno mondadori non lo spiego a lezione cioè l'idea è che la lezione è dedicata al monografico e il manuale è studiato dagli studenti autonomamente a casa emerso però che questo manuale presenta alcune difficoltà e allora visto che mi sono state fatte delle richieste in chiarimento allora ho pensato di fare questi video che riguardano appunto il manuale e che non pretendono di rispiegare tutti gli argomenti toccati da dare non è una sorta di corso di filosofia morale abbreviato no è un un aiuto allo studio del manuale di dare e quindi si affianca al monografico che cambio di anno in anno eccetera eccetera non intendono questi video sostituire lo studio del manuale quindi non solo non rispiegano diciamo se lui parla di canto di spinosa cante spinosa ma nemmeno intendono essere una esposizione approfondita del manuale stesso cioè non sostituiscono lo studio del manuale sono un aiuto sono un un'agevolazione allo studio del manuale ecco ovviamente il manuale è un tipo di libro speciale specifico e che bisogna trovare il modo bisogna trovare un giusto modo di studiarlo evidentemente tocca tante cose è un po un generale questo vale per un po per tutti i manuali tratta di tante questioni non le può approfondire come potrebbe approfondirle ovviamente una monografia quindi è chiaro che lo studio non può aspettarsi di ottenere da manuale una conoscenza approfondita di tutti gli argomenti toccati è inevitabile che bisogna cercare di capire le linee del discorso raccogliere alcuni punti alcuni concetti anche approfondire quelli da cui si è colpiti magari andando a cercare qualche altro testo può essere diciamo della filosofia un'enciclopedia un o addirittura un altro manuale o addirittura una un testo più approfondito se si è colpito da un tema ma ecco non ci si può certo aspettare di comprendere a fondo tutte le tematiche tutti gli autori toccati questo vale anche per questo manuale che ha alcune caratteristiche particolari intanto non procede in maniera storica non è una sorta di storia della filosofia morale da Socrate fino agli autori contemporanei procede diciamo così per temi questo lo si vede anche semplicemente aprendole guardando l'indice ma in realtà io direi che non anche questa caratterizzazione è ancora inadeguata perché non è lo scopo ma a me sembra che lo scopo di dare non sia nemmeno fare una panoramica sui temi io direi che lui lui presenta il discorso come una profondità proprio nelle prime linee dell'introduzione dice un'analisi approfondita dei termini e dei concetti che contraddistinguono la riflessione etica quindi termini e concetti propri della riflessione etica che non procede in maniera storica così lui lo presenta però io direi che in qualche modo darei sta anche presentando una certa prospettiva non certo come farebbe se scrivesse un suo trattato che so sulla libertà o sul bene è comunque aperto fa vedere anche altre linee però ecco non ha nemmeno lo scopo di presentarle un po' tutte no lui presenta una certa linea fa vedere talvolta anche le sue problematicità e come è stata sottoposta a critica da altre linee però è in qualche modo una certa prospettiva quella che viene sviluppata e secondo me questo è un gran vantaggio in realtà perché non è facile fare una prospettiva cosiddetta neutrale no una sorta di sguardo dall'esterno che presenti no è più interessante a un certo punto entrare in un orientamento non è che è una teoria speciale un orientamento e da approfondirlo e da lì vedere che cosa si può accogliere di ciò che è stato evidenziato è sottolineato soprattutto da altri approcci quindi poniamo nel primo capitolo di cui parliamo adesso prevale diciamo così una prospettiva in senso ampio di filosofia morale antica da Socrate ad Aristotele che è illustrata anche con alcuni esempi di autori contemporanei che l'hanno ripresa però ecco c'è un tentativo di recuperare recuperare alcune istanze che sono state messe in evidenza dalla prospettiva piuttosto moderna ok e quindi però ecco diciamo prevale quell'orientamento lì e si cerca di recuperare alcune altre istanze a mio parere è in questo suo essere in qualche modo prospettico è più efficace che uno che di un discorso che tenti di essere che pretende o tenti di essere diciamo così uno sguardo da nessun luogo e quindi appunto assolutamente alla stessa distanza da tutte le prospettive ecco questo come premessa generale dunque il primo capitolo del manuale di dare le parole dell'etica è dedicato si intitola il duplice compito dell'etica questo è quello che per lui è la cosa diciamo fondamentale fatta in questo capitolo allora gli diciamo l'inizio è molto secondo me molto bello all'inizio dare parla della parola etica dice una cosa importante dice che lui lo userà in maniera inter sostituibile no sostituibile con la parola morale le userà come sinonimi sulla base del fatto che etimologicamente sono sono simili nel senso che etica deriva da etos che è la parola greca per indicare diciamo così i costumi poi preciseremo come lui precisa e la parola morale deriva dal latino mores che indica i costumi quindi hanno non sono non sono imparentate etimologicamente ma hanno la stessa struttura derivano dalle due parole che in latino e in greco indicavano i costumi e quindi lui dice io le userò come sinonime però sottolinea che alcuni autori Hegel in particolare ma poi nel secondo capitolo riprenderà anche Habermas anche Ricœur hanno invece valorizzato la distinzione tra etica e morale ma a parte questo fatto non è semplice dire come intenda quale sia la caratterizzazione di etica che viene fuori in queste prime pagine io per aiutarne lo studio direi che prevale un uso come aggettivo cioè più che l'etica la morale Daré parla di qualcosa di cui si dice che è etico e in particolare questo qualcosa è la riflessione quindi il duplice compito dell'etica è innanzitutto il duplice compito della riflessione etica attenzione però perché questo è davvero un punto importante Daré dice la riflessione etica non è solo la riflessione della filosofia che si occupa di etica cioè una riflessione etica che è messa all'opera dalle persone stesse, dagli attori, dai soggetti pratici questo è fondamentale perché per esempio distingue il discorso da quell'accezione che esiste per cui etica è la filosofia morale ma capita per esempio di ragionare in questi termini l'etica è la filosofia morale poi c'è l'eticità Daré invece usa etica per come modo di qualificare una certa forma di riflessione che è innanzitutto quella che ciascuno di noi compie nella vita o in certi momenti della vita e sviluppata, metodicamente articolata è anche quella che si realizza in filosofia morale quindi la riflessione etica innanzitutto, poi usa anche etica per descrivere un certo tipo di atteggiamento di comportamento che più o meno nel senso in cui tutti diciamo quello si è comportato eticamente nel senso di si è comportato bene, in maniera appropriata, in maniera lodevole ecco, quindi c'è anche questo uso di etico nel senso di come una forma di elogio particolare, l'elogio morale esattamente quindi c'è sia una riflessione etica sia un comportamento etico ad ogni modo, detto questo su cui ci servirà il discorso è costruito intorno a un'analisi dell'etimologia cioè prende l'etimologia come filoconduttore e dice che la parola etos, la parola greca etos ha innanzitutto tre gruppi di significati il primo, il più antico, è quello per cui indica la dimora addirittura anche la tana degli animali poi c'è il significato per cui indica i costumi, le tradizioni le abitudini e poi c'è il terzo significato è quello per cui indica il carattere del soggetto stesso il carattere dell'individuo il carattere non è una cosa, una sorta di indole innata il carattere è ciò che viene plasmato è la forma del soggetto in quanto è una forma che si forma è una forma che si costituisce nel tempo nel processo di educazione, di socializzazione eccetera dunque questi tre elementi va bene, la questione sulla dimora lui fa anche un riferimento bello ad Heidegger su cui adesso non mi soffermo ma il punto fondamentale del discorso è quando evoca Hegel la dimora è per dire che i costumi secondo significato sono un luogo in cui innanzitutto dimora il soggetto pratico il luogo proprio il luogo che accoglie la dimora del soggetto pratico non è semplicemente la natura men che meno un sistema di oggetti è un mondo vitale organizzato e ordinato da norme appunto costumi maniere ecco l'eticità l'eticità questo dimorare nell'eticità spiega benissimo da re riprendendo Hegel è un dimorare presso qualcosa in cui che non è estraneo alla soggettività c'è tutta una pagina dove fa questo gioco appunto richiamandosi al linguaggio dialettico di Hegel non è un essere della soggettività in un contesto che è non soggettivo come se fosse diciamo così la natura no è essere in un contesto che è intrinsecamente soggettivo cosa vuol dire? non vuol dire che è interiore vuol dire che è per esempio un contesto articolato in parole le norme ci vengono illustrate anche attraverso delle parole sia l'elogio sia il biasimo ci arrivano anche con dei gesti che sono carichi di significato quindi ecco non siamo di fronte a una realtà naturale che ha una sua un suo ordine leggi di natura dai leoni nascono leoni alla notte segue il giorno al giorno segue la notte quindi c'è un certo un certo ordine naturale ma non è quest'ordine qui che si scopre con un'indagine ben caratterizzata ma è appunto l'ordine in cui la soggettività diciamo si sente come a casa che non vuol dire che non si provino sentimenti di estraneità ma appunto vuol dire che sei nell'ambito di ciò che è storico di ciò che può essere anche criticato e trasformato ma di questo diciamo tra poco allora il collegamento tra questi primi due significati quindi la dimora e i costumi nel senso che i costumi sono la dimora e il terzo è così fatto abitando questi costumi queste tradizioni il soggetto si forma ecco il formarsi il processo educativo di socializzazione di soggettivazione del soggetto accade all'interno di questo spazio dove si forma il suo carattere ecco dove si forma quel complesso di forme di modalità di comportamento di attitudini intellettuali e anche di modalità di reazione emotiva impariamo a provare paura a provare desiderio a provare attrazione in questo spazio ecco dunque che i costumi si inscrivono sul soggetto formando il suo carattere ecco quindi la connessione tra questi tre significati allora dato questo va bene ora di questo soggiornare abitare dimorare del soggetto nei costumi che è appunto al di là di queste metafore proprio un formarsi un divenire familiare ai costumi che è anche un formare se stessi ci si forma si diventa soggetti capaci di responsabilità capaci di deliberazioni capaci di provare le emozioni propriamente umane cioè non semplicemente che so la paura un colpo ma ad esempio l'indignazione uno deve apprendere una serie di cose per potersi indignare cioè provare quella particolare ira di fronte all'ingiustizia devi saper riconoscere l'ingiustizia quindi devi avere acquisito degli abiti percettivi che ti fanno sapere che ti rendono capace di riconoscere certe situazioni come situazioni di ingiustizia di sopruso eccetera quindi ecco in quel spazio di costumi il soggetto forma se stesso apprende una serie di capacità che lo rendono il soggetto pratico che poi esercita sarà e che eserciterà e quindi ecco c'è questo gioco familiarizzando con questi costumi li porto dentro di me e si forma il karate ora dare insiste sull'importanza di questo radicamento ma insiste anche sul fatto che il discorso non finisce lì ecco ovviamente non finisce lì non finisce lì a due da due punti di vista non finisce lì nel senso che il soggetto non è semplicemente il soggettivarsi del soggetto il formarsi del soggetto non è semplicemente acquisire i costumi dati non è un un aderire un essere schiacciato sui costumi dati e basta quindi primo aspetto e men che meno la filosofia morale quindi la riflessione filosoficamente strutturata sulla sui costumi sull'etticità men che meno è una mera registrazione di questi stessi costumi una loro santificazione un dire è così certo c'è il saperli esplorare il saperli descrivere il saperli comprendere ma non finisce lì quindi sia a livello della vita pratica sia a livello della riflessione filosofica sulla vita pratica non ci si può fermare all'eticità ai costumi perché ecco perché perché questa stessa vita pratica questo viene detto in maniera forse che può sfuggire questa stessa vita pratica è animata nel senso di messa in movimento da una questione che in qualche modo le impedisce di acquietarsi di chiudersi su se stessa questa è la questione diciamo così del bene o se volete del bene del giusto cosa vuol dire concretamente vuol dire per esempio che a livello della vita pratica quindi ancora prima che entri in campo il sapere filosofico la pratica filosofica esiste un una messa in questione dei costumi ricevuti un chiedersi se quel che è ricevuto che è tramandato che è tradito cioè che appunto è portato alla tradizione è effettivamente giusto e buono si presenta come giusto e buono non si presenta semplicemente come comandato si presenta come qualcosa degno di essere rispettato e però proprio per questo si espone alla possibilità di essere messo in questione se non corrisponde a questa stessa pretesa da qui l'insistenza di dare in più luoghi in questi primi paragrafi sul fatto che non basta che una norma sia data nemmeno se è data nei costumi perché sia una norma etica cioè sia una norma valida sia una norma meritevole di essere rispettata una norma giusta una norma buona ecco non basta che sia lì nei costumi che sia che sia seguita dalla maggior parte delle persone anche dalla stragrande maggioranza è qualche altra dimensione che la rende degna di ecco su questo insiste in più momenti qui si potrebbe fare una piccola osservazione che lui non sviluppa almeno non qui ma che aiuta a capire perché potrebbe venire e cioè ma questo mettere in questione caratterizza ogni società ogni configurazione dei costumi ogni eticità coltiva questa criticità coltiva questa attitudine per cui le norme sono commisurate alla loro presunta o pretesa bontà per vedere se effettivamente stanno all'altezza di questo cioè sostanzialmente se sono buone e giuste ogni società coltiva questo o sono alcune società che coltivano questo ecco questo è un ordine di problemi che non viene affrontato ma che conviene segnalare ecco quanto detto adesso viene per esempio spiegato ad esempio pagina 6 quando Darae dice l'esperienza etica del soggetto si forgia a stretto contatto con l'ethos nel quale si radicati si abita inoltre tale radicamento può conoscere modalità diversificate di consapevolezza da parte del soggetto questi sono i due punti che ho cercato di chiarire fino adesso quello per cui il soggetto si forma all'interno dei costumi nelle pratiche educative formative all'interno dei costumi e quello però per cui può stare rispetto a questi costumi in diverse posizioni c'è l'immedesimazione l'identificazione piena quello per cui giusto è ciò che comanda nei costumi non c'è non c'è spazio per vedere la differenza tra quel che è comandato nei costumi quel che richiedono le norme tramandate e il giusto e poi invece atteggiamenti via via più critici fino a che appunto c'è quello per cui si dice si contrappone l'idea di giusto e di bene ha le norme date cioè queste norme non sono giuste non sono quello che pretendono di essere quindi ecco c'è queste diverse possibili posizioni soggettive rispetto a questi costumi entro cui però il soggetto si forma quindi non è che il soggetto arriva da Marte il soggetto si forma in questi costumi ma poi può prendere distanza da quella immediata da quella iniziale in medesimazione a pagina 7 ci sono alcune righe di sintesi dove questa cosa che adesso ho ripreso viene ulteriormente approfondita ecco ovviamente quella dimensione di criticità è quella famosa riflessione etica che non è solo della filosofia morale c'è anche la riflessione dei soggetti pratici quando compiono una certa maturazione e quindi stando all'assuggerimento che facevo prima nelle società che favoriscono questa maturazione società come la nostra per esempio società moderne valorizzano questo fatto noi riteniamo che faccia parte della piena maturità di un soggetto pratico il divenire capace di sottoporre a critica le norme ricevute i cosiddetti valori ricevuti la capacità di non aderirvi in maniera conformistica ma riconoscere la validità quindi avendoli interrogati rispetto alla loro validità l'interrogazione può portare anche ad accettare una norma dire sì effettivamente è giusta effettivamente è valida però non è fatto in qualche modo per una sorta di cieca fede attenzione che sulla parola fede bisogna fare attenzione perché adesso l'ho usata in un senso così ordinario ma in realtà la posizione di fede è a sua volta una delle possibili posizioni ed è già in qualche modo intermedia rispetto alla prima posizione e a quella dell'atteggiamento critico nel senso che l'immedesimazione nei costumi è come dire una posizione di maggiore ingenuità mentre la fede già c'è una distinzione poi ho fede rivolgo fiducia quindi mi sono già staccato non c'è la piena immedesimazione poi l'atteggiamento critico ecco è come dire un passo indietro ancora più radicale ecco importante a pagina 7 questo punto dove lui quindi sottolinea trae una conseguenza a tutto quello che abbiamo detto adesso e dice dunque l'ethos perché si dia interrogazione etica filosofica ma anche perché si dia una riflessione etica vera e propria nell'ambito della vita quindi da parte anche di chi filosofia non pratica la filosofia è necessario dice che l'ethos cioè i costumi l'eticità non sia considerata come una realtà di per sé giustificata quindi non è che se una norma è ricevuta allora è valida se no la riflessione non avrebbe lo spazio per nascere e insieme che possano essere modificati quindi se vengono ritenuti immodificabili per cui tu puoi dirti sono giusti non sono giusti ma sono immodificabili anche in questo caso la riflessione etica sarebbe in qualche modo fine a se stessa mentre la riflessione etica laddove mette in questione i costumi può arrivare a criticarli ritiene anche di potere in qualche modo arrivare a trasformarli ecco ovviamente qui non bisogna dare per scontato i passaggi ulteriori non basta la critica per trasformare i costumi è quello che ci segna Marx non basta interpretare diversamente c'è tutto un processo di trasformazione però intanto è vero che perché la riflessione etica abbia una praticità è necessario non considerare i costumi come immodificabili se vale l'idea non si può toccare nulla è ovvio che l'eventuale riflessione etica non avrebbe efficacia non avrebbe un'effettualità pratica a chiusa di questo giro primo giro di considerazioni invito a fare particolare attenzione alla nota 13 di pagina 9 dove c'è un commento molto bello di una frase bellissima di Aristotele tratta dalla politica dove appunto Aristotele dice non è quel che è tradito quello che la tradizione ci consegna quel che conta ma ciò che è buono ciò che è giusto quindi si vede come Aristotele stesso abbia questa consapevolezza ecco significa utile non sfugga che non sfugga anche un altro riferimento di pagina 9 cioè quello dove ha la libertà quando poi viene citato Kant ecco questo è un punto importante cioè non è diverso da quello che abbiamo detto adesso il nucleo è quello che abbiamo detto ma è giusto saper riconoscere che si può introdurre e bisogna introdurre anche il concetto di libertà in questo modo l'adesione alle norme a cui si aderisce possono anche essere contenutisticamente quelle che erano ricevute dalla tradizione come ho detto non è che l'atteggiamento critico debba necessariamente portare a sconfessare tutto quello che è stato ricevuto l'atteggiamento critico è quello per cui quel che è stato ricevuto non è accolto solo perché è stato ricevuto non è accolto solo perché si è sempre fatto così è interrogato nella sua pretesa di essere giusto e da questa interrogazione può anche uscire riscattato nel senso che si effettivamente merita questo si effettivamente merita però è l'esercizio della libertà come autonomia autonomia vuol dire darsi il normos darsi la legge ma non nel senso di un arbitrio di fare faccio quel che voglio mi do la regola ma nel senso che la norma alla norma però dico sì riconosco la validità della norma non mi ci sottopongo per paura o per per paura di una punizione o per paura del biasimo della comunità ma mi ci sottopongo perché ne riconosco la validità anche se contenutisticamente quella norma è molto antica ecco quindi le dico sì ecco le dico sì e le dico sì non per arbitrio non per ghirivizio ma sulla base di una riflessione dove quindi è all'opera la ragione la ragione pratica la ragione pratica vuol dire la ragione che che maneggia un certo tipo di concetti tra cui innanzitutto i concetti di bene di giusto di lodevole sulla base di questi quindi anche di ingiusto di cattivo eccetera sulla base di questi considera una norma un modello di comportamento che viene offerto non semplicemente comportatevi così ma anche viene indicato un certo modo di comportamento come quello appropriato e anche questo viene sottoposto a valutazione a giudizio più esattamente a giudizio nella riflessione etica riflessione etica che diciamo un'ultima volta è anche quella degli attori dei soggetti pratici naturalmente questa riflessione può essere ulteriormente sviluppata articolata metodicamente ulteriormente organizzata e portata avanti in quella particolare lui dice disciplina a un certo punto possiamo dire disciplina che è la disciplina filosofica cioè tutta questa articolazione ulteriore può essere fatta filosoficamente cosa sia la specificità della riflessione filosofica rispetto alla riflessione pratica è qualche cosa che in qualche modo emerge nel complesso del libro non è sviluppato in questi primi paragrafi non è sviluppato che in qualche modo